Ragazzi e ragazze vi do il benvenuto su Gassim Drums, nel video di oggi voglio parlarvi su pad proprio del movimento più importante per un batterista, quel movimento fondamentale che però troppi batteristi non conoscono bene, non sanno fare bene e quindi non riescono ad avere quel giovamento che questo movimento ci permette di avere, quindi oggi vi voglio spiegare tutto, il perché è importante, come farlo, vi spiego bene tutto, ho anche un pochettino di camere a darmi una mano per farvi vedere tutto il video. Bene nel dettaglio e in più c'è una sorpresa per tutti quanti voi, una sorpresa che mi chiedete da una vita, da praticamente quando ho iniziato il canale, oggi riesco a farvi questa sorpresa ma vi spiego tutto dopo la sigla. Come vi ho detto in questo video c'è una sorpresa, non voglio lasciarvi sulle spine, vi dico subito che cos'è perché tra pochissimi giorni esce il mio corso rudimenti tecniche applicazioni, ma perché ve lo sto dicendo adesso? Perché da oggi è attivo il preorder del corso e chi acquisterà il corso durante il preorder riceverà a casa questo, e cioè il poster dei rudimenti di Vicford. Quindi lo riceverà proprio a casa, non è che dovete stamparlo, PDF, no, riceverete proprio questo a casa, ovviamente solo chi acquista il corso durante il preorder. E questo è completamente gratuito, quindi se acquistate non cambia il prezzo, non cambia nulla, questo è gratis e vi arriva a casa, ve lo spedisco io personalmente, ve lo spedisco a casa. Il corso in pratica, su cosa si basa, poi partiamo col video, il corso è un corso completamente dedicato ai rudimenti, alla tecnica che serve per poter studiare, per poter suonare al meglio i rudimenti, e soprattutto, cosa importantissima, alle applicazioni sulla batteria dei rudimenti. Quindi studieremo la tecnica, poi studieremo bene i rudimenti e poi andremo sulla batteria per applicarli in varie modalità, sia in modalità di fill, sia in modalità di groove, eccetera, eccetera, eccetera. Il corso dura circa 10 ore, c'è il PDF all'interno con 80 pagine, con tutte le trascrizioni, tutte le basi, e c'è veramente un botto di roba, e secondo me è un corso che serve veramente per fare quello switch da rudimenti e basta, in cui si fanno sul rullante e basta, a far diventare i rudimenti qualcosa di veramente interessante, qualcosa di veramente efficace, quando andiamo a suonare la batteria, quando andiamo a suonare con la nostra band, eccetera, eccetera. Vi ricordo che il preorder in cui riceverete a casa il poster gratuitamente è valido fino al 3 luglio alle 23.55, quindi da adesso fino al 3 luglio alle 23.55 potrete preordinare il corso e vi arriverà a casa questo. Ma adesso passiamo al video. Di base, allora, i batteristi hanno un problema, tra virgolette, che hanno due bacchette in mano, devono suonare con le mani, con i polsi, eccetera, eccetera, e quindi fanno fatica, diciamo. Se suoniamo a un concerto per due ore, facciamo fatica, ma c'è questo escamotage, dato da questo movimento, che ci permette di fare molta meno fatica. La chiave di tutto è il rimbalzo. Noi abbiamo una fortuna grandissima, che è quella di avere una bacchetta in mano, che colpisce una superficie, che fa rimbalzare questa bacchetta. Quindi, se noi facciamo questa cosa molto stupida, ma che ci deve far pensare, la bacchetta, dopo che va giù, rimbalza. Perché, appunto, impatta sul pad, in questo caso, sul rullante, su un tom, sui piatti, in qualsiasi punto, e questo gli dà una forza che torna su. Questa cosa, in realtà, è fondamentale. Perché noi, di solito, pensiamo sempre a un colpo come, ok, batti, vai giù, e poi torna su. Ma, in realtà, noi abbiamo la possibilità di pensare solamente al colpo verso il basso. Cioè, solamente al colpo giù. Se noi, dopo aver dato il colpo verso il basso, lasciamo un po' andare la bacchetta, adesso vi spiego come fare, la bacchetta tornerà su da sola. Quindi, questa sembra una stupidaggine, ma pensateci un attimo. Noi, anziché dover dare il colpo verso il basso e poi tornare verso la, far tornare la bacchetta verso l'alto, noi, possiamo dare il colpo verso il basso e far tornare la bacchetta da sola. Quindi noi fare un movimento al posto di due. Vedete, io ho dato il movimento verso il basso, il mio polso ha fatto questo. Pa! E poi, però, la bacchetta era già verso l'alto. Questo ci permette di colpire verso il basso e poi, dopo, colpire di nuovo verso il basso, senza dover salire di nuovo, perché la bacchetta ha già fatto quel movimento lì da sola. Quindi, la cosa importante, qual è? La cosa importante è riuscire a controllare questo rimbalzo, per non fare questo. Se facciamo questo, c'è un problema, perché poi rimaniamo senza bacchette. Quindi, non è così semplice, poi, riuscire a dare la stessa forza con le mani sul tambur. Vabbè, andiamo avanti. Dobbiamo, in pratica, andare a colpire e poi controllare la bacchetta, in modo tale che faccia tutto da sola, ma che faccia quello che vogliamo noi. Quindi, la cosa importante, almeno per l'inizio, è riuscire a colpire e poi far sì che la bacchetta rimanga in posizione verticale, in questo modo, così da avere il completo controllo. Noi poi torneremo su con la mano e daremo un altro colpo, permettendo alla bacchetta, di nuovo, di rimbalzare. La cosa da fare, quindi, qual è? La cosa da fare è dare un colpo normalissimo, ma nel momento in cui diamo il colpo, in cui di solito qui saremo rimasti con le dita chiuse e, dopo aver dato il colpo, saremo tornati su, quindi questo. Anziché fare così, noi dobbiamo dare un colpo normalmente col nostro polso, ma nel momento in cui la bacchetta batte contro il pad, in questo caso, rullante, ottomi, piatti, come dicevo, qualsiasi cosa, noi dobbiamo permettere alla bacchetta, che in teoria vorrebbe fare questo, di farlo proprio. Quindi, per permettere alla bacchetta di poter fare questo, noi dobbiamo lasciare morbide le dita, la bacchetta, con la parte dietro della bacchetta, andrà ad aprirci le dita e salirà, quindi noi ci troveremo in questa posizione qua, con le dita aperte e con la bacchetta verso l'alto, quindi, in pratica, facendolo più veloce, come un colpo normale, sarebbe questo. Vedete? In pratica la bacchetta a rallentatore fa questo, colpisce, comincia a rimbalzare verso l'alto, io apro le dita e la bacchetta è verso l'alto, mentre io sono ancora proiettato col mio polso verso il basso. Quindi, ovviamente, stessa cosa con destra e sinistra. Poi, ogni tanto, può capitare, come avete visto nei due ultimi colpi, che la bacchetta faccia un po' quello che vuole, ma l'importante è cercare di avere il più possibile la concentrazione e il controllo di quello che sta facendo la bacchetta, quindi il controllo del rimbalzo. Questo è fondamentale perché? Perché qualcuno adesso si chiederà sì, vabbè, ma scusami, ma poi non è che nel momento in cui vado a suonare io faccio questo. Cioè, pensate a un batterista che fa sta roba, non è troppo bello da vedere e non serve neanche, ma questo è l'esercizio preliminare per riuscire a utilizzare il rimbalzo. Perché nel momento in cui noi andremo a fare questo movimento per mettere la bacchetta di rimbalzare, tornare verso l'alto, eccetera, noi poi andremo a fare il movimento verso l'alto, che però sarà solo un movimento di polso in questo modo qua, in cui non avremo alcun tipo di forza o non avremo alcun tipo di peso perché non dovremo ritirare sulla bacchetta, ma noi diamo il colpo, torniamo su e siamo pronti per dare un altro colpo. Quindi in pratica ci abituiamo a pensare ai colpi solamente verso il basso. la bacchetta torna su da sola. Andando avanti e cercando di fare questo movimento, poi questo colpo, a tutti gli effetti, sempre più veloce, Cosa succederà? Succederà quello che viene chiamato free stroke, e cioè noi andiamo su con la bacchetta, torniamo su insieme alla bacchetta, ma in realtà la bacchetta sta tornando su da sola. La bacchetta torna su da sola per il rimbalzo, mentre noi tiriamo sul polso mentre lei torna su da sola. Vedete che io, quando la bacchetta va giù, apro la mano per permetterle di rimbalzare e poi vengo su con lei, ma in realtà io, mentre viene su, me ne frego completamente perché lei viene su da sola, devo ovviamente controllare il rimbalzo, ma di base non faccio nulla, tiro solamente su il polso. Quindi questo ci serve tantissimo perché nel momento in cui devo fare tanti colpi potrò sfruttare veramente il rimbalzo, come vi dicevo all'inizio. Quindi... In questo caso qua, come potete vedere, io sto facendo tutti i colpi verso il basso, ma la bacchetta viene su da sola, quindi questa è una cosa importantissima da fare sia con la destra sia con la sinistra. Quindi partite con calma, fate il movimento iniziale, poi venite su all'inizio, ricordandovi di lasciare morbide le dita per permettere alla bacchetta di rimbalzare e venire su. Dopo aver fatto questo, cercate di congiungere i due movimenti, quindi quello della bacchetta verso il basso e quello del polso verso l'alto mentre la bacchetta viene sulla sola per il rimbalzo. e poi successivamente cercate di fare più colpi lasciando la bacchetta rimbalzare da sola. Quindi aprirete un pochettino le dita, terrete le dita sempre un pochettino aperte e... Ovviamente la mano destra e la mano sinistra, la mano forte e la mano debole, non andranno mai alla stessa velocità, ma questo ormai noi batteristi ci abbiamo messo un po' una pietra sopra, ma comunque cercate di fare questo movimento tanto con la sinistra perché vi aiuta tantissimo. Nel momento in cui poi andrete a suonare sulla batteria ma qualsiasi cosa, voi farete molta meno fatica perché anziché fare due colpi andremo a suonare, pensare almeno un colpo solo. Uno fatto da noi e uno fatto dalla bacchetta sulla nostra supervisione, diciamo perché come vi ho già detto prima, dovremo riuscire a controllare bene la bacchetta e riuscire a controllare il rimbalzo, ma questa cosa ragazzi ci svolta la vita per quanto riguarda la velocità, per quanto riguarda il controllo, per quanto riguarda la potenza e in realtà anche per quanto riguarda la nostra libertà, perché se prima eravamo lì a suonare tutto di polso, adesso ci lasciamo un po' andare, quindi anche da vedere diciamo siamo un po' più belli e soprattutto noi siamo molto più rilassati mentre suoniamo e questa è una cosa importantissima, se non la cosa più importante essere rilassati quando suoniamo. Quindi spero che questo movimento, questa tecnica diciamo, che poi è la tecnica del free stroke vi sia piaciuta, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ovviamente questa è una tecnica che c'è anche all'interno del nuovo corso rudimenti, tecnica e applicazioni. Ovviamente andremo a vedere questa tecnica su rullante, andremo a vedere come funziona, poi andremo ad applicarla sul set, vi farò capire quanto è fondamentale e quanto ci permette di andare veloce. Poi anche dove in realtà il rimbalzo sembra non esserci, ad esempio sul timpano, sul tom eccetera, la utilizzeremo anche lì e vi ricordo che il preorder di rudimenti, tecnica e applicazioni è attivo da oggi fino al 3 luglio alle 23.55 e vi ricordo che chi ordina il corso, quindi chi acquista il corso entro quella data, riceverà, rompendo di qua, il poster completo dei rudimenti di Vic Firth, dove ci sono veramente, ma perché lo apro sempre a noi giusto, dove ci sono tutti i 40 rudimenti di Vic Firth, tutti quanti e quindi appunto non c'è un prezzo maggiorato per chi vuole il poster, no. Chi lo ordina lo compra allo stesso prezzo lancio del corso, ma in più riceve a casa il poster. Avete tutto quanto qui sotto in descrizione per quanto riguarda le info, per capire come fare, per capire che cosa c'è all'interno del corso, per andare a vedere già qualcosina del corso e quindi ragazzi, se avete qualsiasi domanda scrivetemela nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate e se già conoscevate questa tecnica qua, questo movimento fondamentale qua, fatemi anche sapere se secondo voi è un movimento fondamentale oppure no e basta. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!